Aspettando la 26esima fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola che si terrà nelle prime tre domeniche di ottobre, la città dei bronzi dorati lancia i weekend e soggiorni gourmet. Nuove proposte di valorizzazione territoriale all'insegna del gusto presentate al ristorante Nostrano di Pesaro di Stefano Ciotti. Uno dei sei chef stellati marchigiani che assieme a Pierpaolo Ferracuti, Enrico Mazzaroni, Davide Di Fabio, Nikita Sergeev e Enrico Recanati animeranno i Pergola Truffle Show. L'impegno a quest'anno è a cogliere ancora maggiormente l'occasione della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola per far sì che sia occasione non solo per venire a Pergola per una giornata ma per trascorrere un fine settimana importante, un fine settimana alla scoperta dell'eccellenza del territorio nella nostra zona. Quindi ecco sarà sicuramente un'ottima occasione per gustare i nostri tartufi ma non solo per scoprire un territorio che ha veramente tanto da dare. Abbiamo deciso di organizzare questi pacchetti che partiranno appunto il venerdì, sábado e domenica nei primi tre weekend di ottobre proprio per ampliare l'offerta della nostra fiera e mettere in mostra non solo ovviamente le eccellenze culinarie grazie appunto a questa collaborazione con i sei chef stellati che l'ATIM aveva già messo insieme in occasione della della bit di Milano ma anche mostrare quelle che sono poi le nostre bellezze paesaggistiche, culturali e storiche come ad esempio i nostri, oltre al loro della terra abbiamo un altro oro importantissimo per noi che sono i bronzi dorati che sono custoditi in questo nostro bellissimo museo e sono unici al mondo. Nelle Marche vi è un progetto ormai molto nitido che è tartufo tutto l'anno nelle Marche quindi in ogni stagione, in ogni mese abbiamo una pepita differente che dobbiamo tenere in alta considerazione come i grandi pregiati perché il tartufo è un'espressione di madre terra, i cuochi lo sanno conciliare molto bene, sei chef stellati da Monte Cosar, diciamo da Gabice fino ai Sibillini riusciamo a raccontare un messaggio particolare per sei volte a Pergola si racconterà un messaggio di turismo, di cucina, di tartufo, di grande eleganza e io dico anche di marchigianità piena che sa accogliere l'ospite, il turista e il gourmet. Non solo tartufo bianco pregiato ma anche una pasta ad esso perfettamente abbinata ovvero i maccheroncini della fermana Campofilone, unica pasta all'uovo IGP d'Europa. Ci teniamo in modo particolare a questo prodotto e soprattutto ci teniamo ad accoppiarlo, noi chiamiamo matrimoni del gusto, con dei prodotti di altrettanta qualità come il tartufo bianco di Pergola. Quindi questa occasione è per promuovere questo connubio che avverrà poi nei prossimi mesi perché significa promuovere il territorio, promuovere le attività del territorio e quindi portare lavoro ed economia anche nei nostri piccoli borghi.